Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna e tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma per traffico. Sulla Firenze Mare i rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivia 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Ci spostiamo sulla 12 dove troviamo un chilometro di coda per lavori tra Versilia e Massa nella carreggiata verso Genova. In Fipilico di attratti per traffico dalla Strassigna e Firenze Scandici ancora una volta in direzione del capoluogo. Per il traffico urbano di Firenze, rallentamenti sui viali di circonvallazione, traffico molto sostenuto intorno alla Fortezza, su Lungarno Colombo e in via Bolognese. Segnale meno oltre che oggi, 28 marzo, in occasione della cerimonia per la festa dell'aeronautica, Viale dei Colli sarà chiuso dalle 9.45 alle 13.30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!